Quando lo sport e la salute chiamano, Francesco Giorgino risponde sempre. Sì, Francesco Giorgino risponde quando c'è questo connubio, però Francesco Giorgino è anche un grandissimo appassionato di tennis e quindi quale occasione migliore di questa per poter giocare un po' a tennis con tanti amici e veicolare un messaggio estremamente positivo che è quello che appunto sport e salute devono andare insieme, devono viaggiare a braccetto fin dal momento in cui un soggetto ha la possibilità di cominciare a fare attività sportiva fino quasi alla fine della propria vita, perché è fondamentale, lo sport mette in salute, si è fatto con moderazione e con intelligenza. Oggi le ha giocato, ha vinto? Purtroppo no, però nel tennis non è importante vincere, soprattutto in queste circostanze, è importante divertirsi, è importante stare con gli amici e veicolare questi messaggi. Si vince con la prevenzione? Si vince con la prevenzione, poi naturalmente il doppio è un tipo di gioco molto complicato, perché si gioca con persone anche di livelli diversi, c'è chi gioca da più tempo, chi gioca da meno tempo, quindi insomma è così, però l'importante è partecipare e veicolare questi messaggi. Grazie. Prego. Grazie. Grazie.